a me mi avevo fatto l'assalto 10 e adesso voglio fare il medico il medico sono quasi al 4 però devo incominciare a fare ieri per cui diria che va bene si ho fatto anche perchè il cieco non mi spara dopo l'aggiornamento non l'ho provata però tipo mi vedo vedo che lo apri e tutto ma a volte mi apri gli a cassa interamente verso la portella e a volte invece verso la coppa in schiena mi se cacca nido i 92 naso su di te qua in schiena se un col pompa no questo è una quel come la classe tua mi viene a chiamarlo sentinela non so perchè oh Forza con la cassetta medica Mi rifaccio la vita un attimo Allora Cristian guarda che scemo come ho fatto l'intervento andiamo subito L'obbiettivo non deve cadere difendiamolo Vieni qua, vieni cucciola Conquistiamo quell'obbiettivo Qua ho visto che compare solo su tutti i segnali Cassetta medica, arriva! Via, te la nato! Dove sei? Fermo Se vuoi posso sistemarti quelle ferite Abbiamo conquistato l'obbiettivo Echo Avanti Ah ok Sì Siamo su El se li vediamo come tempistiche Ah è l'ultima Sono sotto eh Cristian Sotto eh Mi ha messo cagadosso che mi si è passato uno Vai vai Ecco una cassetta medica Te sa che se te sta fermo sola le cassette Te sei rigenera la vita in tromba E ti coi le munizioni Te ne dà le munizioni in piena Abbiamo conquistato l'obbiettivo Echo Sì te resti sola No 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 Ti ti metti adesso quella delle munizioni a terra Mi che stavo fermo sola E mi rifaccio il caricatore completo Quasi uno morto Eh dopo no Vieni su Uno devo consigliare Fora go Occupato uno Sì Eh non c'è mai Ok So peccato Mi sono messo nel punto Più stupido Quella cassettina Ah boh Noi qua fermo Per la bè Cristian Dai che che siamo Perché mo Perché mo Do modosola Va che qua in mattina Che ha grampato Tutte le bandiere Abbiamo perso l'obbiettivo Alpha Abbiamo perso l'obbiettivo Echo Oh Uomini difendete l'obiettivo No, andiamo a subire Dobbiamo conquistare l'obiettivo Devo rianimare sto Mona Qua che ne so un altro Gera, porca Dalla portigina, le bombe infinite Grazie Feriti è morto qua Ecco una cassetta medica Eccos che sta succedendo Mi non arrivo neanche a capirlo dove dovessi andare Perché Intanto esco, rianimo uno Perché non riesco a sparare Cassetta medica Eccola qui Conquistiamo quell'obiettivo Eccolo Che cazoto E l'avevo colpito un l'arma Ecco una cassetta medica Non so che io cosa me la colpito Come fa beccarmi che Dai, medico, tiri me su Bravo E l'avevo vista tutto in faccia Fa poco Dove sono morto mi sta arrivando un tre dei lori Troc'è che se spostiamo Boh, dai Ci abbiamo Ci abbiamo Ci abbiamo Ci siamo Gli atto De forza Cassetta medica Ecco Abbiamo perso l'obiettivo alto Si L'avvio L'avvio L'era Rai La Fai un attimo Cri Che era anche qua Sola Devo dire Cosa vuol dire però quell'arma là l'Hell Reist 1915 da se è figa ma ha pochissimi colpi in realtà cioè se ho perennemente se ho perennemente come un che mi dà munizioni o right ah morto? scusa